Ho scritto testi tutto il giorno ed ora mi ritrovo qui Buongiorno, buongiorno Luca Margarita scassa la cassa e poi butta nell'acqua la pasta La pasta È cominciata la festa per favore fate in modo che qualcuno resta Resta È cominciata la festa per favore fate in modo che qualcuno resta Resta È una festa È una festa Luca Margarita scassa la cassa e poi butta nell'acqua la pasta La pasta È cominciata la festa per favore fate in modo che qualcuno resta 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 Resta